Quali sono gli atti più sprecevoli dell'imperatore Nerone? L'imperatore Nerone fu un imperatore molto particolare di atti sprecevoli ma ne fece tanti ma ce ne sono tre che io ritengo sono fra quelli più sprecevoli che un uomo possa fare. Al terzo posto c'è l'uccisione del suo insegnante Seneca. Al secondo posto c'è l'uccisione di sua madre Agrippina. Al primo posto vi è sicuramente l'uccisione di sua moglie. La cosa più brutta che Nerone poteva fare è ucciderla in quel modo a calci mentre lei era incinta di suo figlio. Quindi in un solo attimo uccide sia la moglie che il suo futuro figlio. Nerone è sicuramente uno degli imperatori più contestati della storia. Questi sono alcuni degli episodi che hanno caratterizzato la sua vita. Grazie. 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 Grazie.